Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video e oggi siete pronti perché nuova puntata di Spelling the Tea with me, Cristiano Cervigni e dobbiamo parlare di una cosa che sta succedendo da una settimana a questa parte, dall'altra parte del mondo, che è in America e è un po' ingarbugliata, quindi mettetevi comodi, prendete qualche snack, qualche drink, perché vi dovete anche un po' dissetare l'anima e state attenti orecchi a me perché la storia che vi vado a raccontare oggi riguarda Kanye West e tutto quello che ha fatto in questi ultimi giorni su Instagram e contro chi lo ha fatto vi faccio questa premessa perché veramente ci sono tantissimi nomi, tantissime cose da ricordare, tantissime cose collegate e quindi se vi perdete anche solo un secondo di questo video non ci capirete più niente vi faccio poi anche un'altra premessa, vi prego di non offendere Kanye West qua sotto tramite commento perché dobbiamo comunque mettere in conto che lui ha dei problemi mentali e ha un disturbo bipolare adesso, 3, 2, 1, non possiamo iniziare senza la mia Rebel Sugar Free, quindi momento ASMR, il mio prete cannuccetta, sorso iniziale e direi che siamo pronti per iniziare a parlare, a spettacolare, a spiegarvi un po' quello che sta succedendo punto numero 1, Kanye West, notissimo cantante rapper americano, stava insieme a Kim Kardashian, notissima star americana che tutti conoscono si sono sposati, hanno fatto anche una figlia ma poi purtroppo si sono creati dei problemi e quindi hanno divorziato, ok? Kim Kardashian si è messa adesso ultimamente con Pete Davidson, tra le altre cose ex di Ariana Grande mentre Kanye West si è messo insieme con Julia Fox e tra le altre cose, vi faccio anche una piccola parentesi che non c'entra niente c'è stato il compleanno di questa Julia Fox e lui per il suo compleanno le ha regalato una birkin super costosa ma non si è fermata a questa ma l'ha regalata anche a tutte le sue amiche adoro, c'è chi dice che lo abbia fatto solo per fare un gelosire a Kim Kardashian però io dico Kim Kardashian con tutti i milioni che ha se ne può comprare quante ne vuole di birkin bag quindi boh, non lo so, ma questo non c'entra nulla era solo per dirvi l'inizio con l'eventuale coppia che si è splittata e loro con i nuovi compagni, rispettive nuove compagne ok, ci siamo inizia così quindi questa storia circa una settimana fa Kanye West pubblica sul suo profilo Instagram una foto in cui praticamente c'è tipo uno screenshot di sua figlia su TikTok e in questo post lui attacca veramente Kim Kardashian dicendo di non essere propriamente d'accordo nell'aver creato un profilo TikTok è una figlia che comunque ha meno di 10 anni, penso che ne abbia 8 quindi è anche un po' illegale perché su TikTok ci puoi andare se hai da 13 anni in su comunque Kanye West su per giù dice dato che questo è il mio primo divorzio ho bisogno di sapere cosa devo fare per mia figlia che viene messa su TikTok contro la mia volontà in questo post si scatena praticamente un casino a livello mediatico con centinaia di migliaia di commenti che lo ha trasformato in un dibattito su è giusto che una bambina così piccola faccia video su TikTok o non è giusto questa tiritera è andata avanti per un po' d'ore tant'è che persino la stessa Kim Kardashian risponde a suo modo al post dell'ex marito con addirittura un Instagram Stories che ovviamente vi metto qua in cui tra le altre cose inizia dicendo che gli attacchi che Kanye West le fa durante tutte le interviste che lui rilascia sono molto più gravi e feriscono molto di più piuttosto che un account su TikTok e poi finisce dicendo in qualità di genitore che è il principale fornitore e tutore per i nostri figli sto facendo del mio meglio per proteggere nostra figlia piuttosto si spera che possa finalmente rispondere al terzo avvocato che ha avuto nell'ultimo anno per risolvere amichevolmente qualsiasi problema e burubum e da qui parte tutto ok? parte una guerra infinita parte il... vorrei dire fuori di testa ma siccome so che ha veramente dei problemi di mente lasciatemi passare questo termine Kanye West da questo post ogni giorno ce n'aveva una o più con qualcuno e infatti Kanye West ririsponde all'ex moglie dicendo tra le altre cose anche che quando lui una volta è andato a prendere sua figlia a casa di Kim la sicurezza addirittura lo aveva fermato non l'aveva neanche fatto entrare dal cancello di casa e non voleva farlo entrare in casa quando invece la figlia lo voleva dentro per mostrargli delle cose ma questa cosa lo ha praticamente destabilizzato e poi tra le altre cose accusa anche Kim di averlo accusato di aver rubato in casa insomma un casino è successo il finimondo ma non è finita qua perché qua siamo solo all'inizio non contento di questa faida Kanye West fa un altro post questa volta contro TMZ che dovrebbe essere un sito e anche un giornale un po' di gossip che aveva ripreso la notizia in internet e ci aveva fatto un articolo Kanye West quindi scrive questo nel nuovo post TMZ in poche parole i miei figli non sono un gioco per me voi avete raccontato la vostra storia prendendo le parti dell'altra contro il padre pretendo le vostre scuse in poche parole dice questo e in un altro post invece pubblica un commento di Candace Owens che non so chi sia però lui l'ha fatto quindi bisogna ridirlo ringraziandola per averlo difeso in questo attacco contro Kim tra le altre cose continua poi con un altro post accusando appunto Kim Kardashian di non lasciare che Kanye West porti i suoi figli su a Chicago e scrive una cosa tipo voglio portare i miei figli nella mia città di Chicago per vedere giocare la mia squadra di basket e Kim ferma questa cosa non me lo fa fare è questa quindi la custodia congiunta insomma siamo nel bel mezzo di un bo infatti anche molti commenti e io per primo ho detto ma scusa ma non vi potete chiamare non puoi scrivergli dei messaggi non puoi dirglielo tramite l'avvocato come fanno tutti perché tutto su Instagram per farmi fare il video ovviamente in tutto questo colei che dovrebbe essere anche lei una cantante rapper ma è diventata famosa per tutt'altro solo per le polemiche arriva nel mezzo a Zelia Banks che con una mega storia lunghissima su Instagram va contro Kanye West dicendo praticamente smettetela di difenderlo smettetela di far finta che lui non abbia dei problemi deve essere aiutato sta dicendo delle cose assurde insomma aiutatelo piuttosto che prenderlo in giro ora lei deve sempre dire una cosa per tutti è un po' diciamo una vecchia pettegola come noi solo che invece di farci il video e parlarne insieme a noi lei ci pensa per conto suo in America così ma nessuno ovviamente la caghe ok perché Kanye West non se l'è filata di striscio e nel frattempo Kim Kardashian ha fatto delle foto ha fatto un servizio penso per Vogue ma ho tipo un lapsus penso che sia per Vogue in cui appunto si fa delle foto insieme alla famiglia e queste foto vengono ripubblicate con un nuovo post sul profilo Instagram di Kanye West in cui lui scrive Dio per favore riporta insieme la nostra famiglia io vi ricordo che in tutto questo lui sta con Julia Fox ah questo tra l'altro è l'unico post di quelli di cui vi andrò a parlare che è ancora presente sul profilo di Kanye West almeno fino a questo momento che sto registrando di Julia Fox parleremo più tardi perché non contento Kanye West in un momento non lo so di euforia massima è andata contro Billie Eilish ha fatto un altro post un altro post in cui dice mia cara Billie ti amiamo tutti ok ma per favore chiedi scusa a Travis Scott e alle famiglie delle povere vittime che hanno perso la vita in più rincara la dose dicendo lo sapete tutti che io e Travis dobbiamo fare il coacella ma se Billie Eilish non chiedera scusa a Travis Scott io non farò il coacella ora cos'è successo ve lo vado a raccontare perché questa uscita così dal nulla cosa è successo che ha fatto Billie Eilish a Travis Scott non ha fatto niente allora se non lo sapete ve lo dico io durante un concerto di Travis Scott è successo che ci sono stati tipo centinaia di feriti e purtroppo anche 12 morti e da quel momento cantanti che fanno concerti in America sono un attimino un po' più preoccupati per la sicurezza di chi li va a vedere e Billie Eilish adesso ha iniziato il suo nuovo tour e durante una di queste prime tappe dei suoi concerti lei si era fermata un attimo dicendo aspetto che la gente stia bene e poi continuo lo show questa frase per Kanye West sarebbe stata una frecciatina per Travis Scott e quello che è successo a Travis Scott e quindi per colpa di questa frase di questa preoccupazione da parte di Billie Eilish per il suo pubblico che è venuta a vederla in sicurezza Kanye West ha minacciato di non esibirsi a Quacella ok e la stessa Billie Eilish effettivamente ha risposto a questo post dicendo non ho mai detto niente non ho mai detto niente del genere non ho mai fatto queste cose ok per il momento Quacella non ha detto niente è rimasto zitto però vediamo alla fine se Kanye West si esibirà veramente o se verrà buttato fuori dalla set list o se manterrà la propria parola non contento di aver fatto la figura barbina persino le famiglie delle vittime del concerto di Travis Scott hanno lasciato un comunicato hanno lasciato dei commenti contro Kanye West dicendo in poche parole che quella cosa che ha detto è stata una cosa da idioti ci siamo allora parte 1 che finisce adesso Kanye West contro Kim Kardashian che lascia sua figlia su TikTok Kim Kardashian che risponde Kanye West che va contro TMZ Kanye West che va ancora contro Kim Kardashian Kanye West che cambia obiettivo e fa contro Billie Eilish Billie Eilish che risponde e dice letteralmente stavo aiutando i miei fan non ho mai detto e non intendevo dire quello che te stai dicendo ci siamo? siamo pronti per la parte 2? questo video sarà una cosa incredibile assurda un casino perché dopo Billie Eilish chi potrà essere la seconda vittima anzi a questo punto la terza vittima dei post di Kanye West il cantante Kid Cudi penso che si dica così almeno io l'ho sempre chiamato Cudi non Cudi quindi lo chiamerò qua Kid Cudi ok? allora Kanye West e Kid Cudi sono o almeno erano molto amici tant'è che hanno fatto anche molte collaborazioni insieme ma Kanye West con un nuovo post su Instagram ci dice che lui e Kid Cudi non collaboreranno per l'album di prossima uscita di Kanye West che si chiama Donda 2 perché Donda 1 è già uscito a causa dell'amicizia di Kid Cudi con Saiki ok? e lo scrive proprio io non ci capisco nulla adoro però a tutto questo Kid Cudi ovviamente risponde a questa cosa risponde dicendo peccato che io non voglio essere nel tuo album tutti tutti sanno che sono stata la cosa migliore dei tuoi album da quando ti ho incontrato pregherò per te fratello è finita questa amicizia? non lo so ma cosa sta succedendo le robe assurde raga ma boh assurde tant'è che Kanye West poi risponde dicendo ma come eravamo amici e poi te quando io avevo bisogno di te per ritornare dalla mia famiglia mi hai abbandonato insomma tutto questo casino ma dopo Billie Eilish dopo Kid Cudi arriva Pete Davidson ok arrivano una sfilza di post di Instagram da parte di Kanye West contro Pete Davidson che vi ricordo era amico di Kanye West che vi ricordo adesso si frequenta con l'ex moglie di Kanye West Kim Kardashian oh mio Dio allora inizia con questo post in cui Kanye West ripubblica una foto in cui era in compagnia anche di Pete Davidson e gli mette proprio in faccia una grossa X rossa scrivendo I just want my friend to have my back the knife just goes in deeper ok e continua tra le altre cose mostrando poi un meme che praticamente è il poster del film della Marvel Capitan America The Civil War in cui al posto dei personaggi della Marvel lui o qualcuno per lui o qualcuno su internet ha messo i volti di Kanye West da una parte di Pete dall'altra e poi i vari schieramenti con Kanye West possiamo vedere per esempio Drake e Travis Scott tra gli altri mentre con Pete Kim Kardashian Billie Eilish ci mette in mezzo Taylor Swift perché sapete voi cos'è successo contro Taylor Swift un casino bisognerebbe farci un altro video di mezz'ora perché è una cosa incredibile iniziato tutto ai video music awards quando Taylor Swift vinse il suo primo awards per You Belong With Me e lui andò sul palco a prendergli a rubargli a rubarle il microfono dalle mani dicendo che quel premio se lo meritava Beyonce da qui è partita tutta la shade contro Taylor Swift ma non è finita qua perché Kanye West dopo questo casino inizia ad archiviare tutti i post di Instagram lasciandone solo tre ma ne ricarica altrettanti contro Pete Davidson e il prossimo di cui andremo a parlare è un post in cui c'è lui e Kanye West lo chiama ex fidanzato di Hillary Clinton ok non contento perché tutti hanno iniziato a dire ma sei andato fuori di cervello ma cosa dici ma ti pare lui pubblica le sue prove con un nuovo post per mostrare che veramente Pete e Hillary Clinton sono stati insieme mostrando uno screenshot di un post di Pete Davidson che mostrava un tatuaggio con il viso di Hillary Clinton questo per lui è la prova tant'è che tutti hanno iniziato a dire guarda ma probabilmente gli hanno hackerato il profilo non è Kanye West che pubblica tutte queste cose e lui cosa fa pubblica un altro post con delle foto ritraenti se stesso con un foglio in cui scrive non sono stato hackerato tutto quello che scrivo sono io proviene da me forse era meglio che ti inventavi la storia dell'hackeraggio come fanno molti influencer italiani quando sparano le cavolate era meglio così ma ragazzi subito dopo pubblica altri post su Instagram contro Pete Davidson o mi viene da dire Pete Dorty ma è un'altra persona Pete Dorty quindi lo chiameremo Pete e questa volta in uno di questi post ci mette dentro anche Arianna Grande e Mac Miller perché ripubblica un post penso su Twitter in cui si diceva che Pete aveva mandato delle foto intime di lui e di Arianna a Mac Miller e quindi aveva un po' rovinato la sua vita tutte queste robe qua e poi un altro post con Pete Davidson in cui lui scrive no non incontrerai mai i miei figli ragazzi voi vi starete chiedendo o se non ve lo starete chiedendo ci sono io che me lo chiedo ma in tutto questo la nuova fidanzata Giulia Fox ma se ne sta zitta ferma a godersi la sua birking insieme alle sue amiche e no perché in realtà in questo momento dopo questi post Giulia Fox cancella tutte le foto sul suo profilo Instagram in cui è in compagnia di Kanye West facendoci un po' capire che la loro storia è al capolinea e infatti Kanye West dice proprio subito sì ci siamo lasciati basta perché io voglio tornare con la mia famiglia voglio tornare con Kim Kardashian e quindi io non sto più insieme all'altra l'altra in tutto questo rifà un altro post che ve lo vado a cercare in cui dice sì ok confermo ci siamo lasciati io non ho 12 anni tutte queste cose qua insomma la loro storia è finita più falsa di quella non lo so del mio culo e non contento ragazzi siamo quasi alla fine ragazzi se non vi preoccupate Kanye West ringrazia con altri post con screenshot di commenti tutti i fan che lo sostengono e tutto quanto ma fa un altro post in cui incita proprio tutti i fan che gli vogliono bene ad incontrare a no non ad incontrare ad urlare a Pete Davidson se dovessero incontrarlo in pubblico Kimi Forever che è Kimi sarebbe Kim Kardashian e Kanye West l'unione dei nomi sapete quando ci sono le ship che si uniscono i nomi di quelli che vogliamo che diventino una coppia e quindi lui dice se tutti quelli che mi amano incontrano Pete Davidson per strada mi raccomando urlategli Kimi Forever e questo scatena il finimondo tant'è che Kim Kardashian manda disperata perché io non so poverina ma cosa deve fare manda disperata un messaggio a Kanye West dicendogli guarda hai creato un casino smettila perché qualcuno potrebbe far del male a Pete e anche magari a noi questi non sono i tuoi fan non puoi dire una cosa del genere alle persone che ti vogliono bene perché può succedere il finimondo smettila fai un passo indietro ok tant'è che Kanye West non solo prima gli manda un pick up pieno di rose rosse ovviamente mostrandolo su Instagram con un nuovo post e dicendo io anche farò di tutto per riconquistare la mia famiglia ma pubblica questo messaggio di Kim Kardashian quindi anche cose un po' personali e chiede praticamente ai suoi fan di non fare quello che lui aveva detto poco anzi poco prima perché potrebbe succedere casino e chiede quindi di non toccare di non danneggiare fisicamente Pete Davidson ma contemporaneamente insieme al messaggio nel post e quello al carosello lui praticamente fa intendere che lo farà da solo perché dice ci penserò io e poi mostra quest'altro post quest'altra foto in cui ci sono due uomini che succedono queste robe insomma mi gestirò questa situazione da solo ora ragazzi e ragazzi , per il momento penso che sia finito qui sì ho fatto tutto ho parlato di tutto dall'inizio alla fine se mi sono dimenticato qualche pezzo ovviamente voi lo potete scrivere qua sotto tramite commento e ovviamente se succederà al continuo e ci sarà sicuramente qualcos'altro perché penso almeno fino all'uscita del suo album perché ok hai un disturbo più bipolare ok sta per uscire il tuo album penso che queste cose siano state anche architettate anche per far parlare di sé per creare un po' di hype per l'uscita dell'album anche perché c'hai milioni è vero che sei malato ma c'avrai un team dietro incredibile qualcuno che ti dice oh non non mette queste robe oh ti blocco l'account perché non puoi perché ti rovina ci sarà penso cioè spero per lui detto questo quello che penso penso che lui si debba far aiutare ma seriamente dovrebbe andare da qualche medico a farsi curare o almeno a provare a curarsi e che deve stare lontano da kim kardashian basta se la deve dimenticare perché ormai lei si è fatta un'altra vita lei un nepole più è piena piena come maria giovanna all'isole famosi che non si chiamava nemmeno così però ah no perché sono piena maria giovanna insomma ragazzi ragazzi questo è quanto io spero che siate riusciti ad arrivare fino alla fine e soprattutto che abbiate capito qualcosa o un minimo un po' più di me se così non è stato magari poi al continuo quando vi farò il riassuntino mi impegnerò ad essere un attimino un po' più esplicativo e per spiegare le cose in maniera un po' più semplice ok fatemi sapere voi qua sotto tra i miei commenti cosa ne pensate di tutta questa storia da che parte state se i vari attacchi contro quello o quell'altro sono stati attacchi inutili oppure fondati se io per esempio Kanye West allora l'inizio aveva anche ragione perché una figlia di 8 anni su tiktok effettivamente anch'io se fosse mia figlia avrei qualche problemino l'inizio era partito bene diciamo poi però è stato un disastro dopo l'altro ragazzi e il meme di civil war mi è piaciuto molto mi ha fatto sorridere diciamo così mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto e se siete arrivati alla fine scrivete sono riuscito ad arrivare alla fine ed ho capito tutto ci vediamo con spill in the tea quando ci sarà un altro drama del genere che effettivamente era un po' eh che non succedeva una cosa così super bombesca anzi da quando loro due si erano lasciati e si diceva che Kanye West aveva tradito Kim Kardashian con Jeffree Star avevamo parlato anche di quello ora se ve lo trovo poi ve lo lascio nella hand card qua di questo video però ho parlato anche abbastanza per oggi quindi mi zittisco un attimo iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto mettete mi piace mi raccomando perché le vecchie pettegole sono tornate e sono sempre in prima linea per parlare degli altri per oggi è tutto noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao 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 ciao